Ha perso la vita mentre lavorava nei campi con la sua passione, un trattore che questa volta però, pur conoscendolo a menadito, lo ha tradito per ragioni che ora dovranno essere chiarite. Sono le 6.45 di questa mattina in un campo in località Cerreto di Novilara. Stefano Evangelisti, 40 anni, nato a Pesaro, dipendente della ditta Mainardi di Monte Ciccardo, specializzata in ambito agricolo, sta accatastando delle balle di fieno su un dislivello accentuato del terreno. Probabilmente, per qualche ragione, il trattore si coriga su un fianco e rotola giù per una cinquantina di metri, capovolgendosi più volte, come mostrano le inequivocabili tracce lasciate sul terreno. Stefano non ha scampo, muore sul colpo, i soccorritori lo trovano riverso sul terreno, già privo di vita. Ad accorgersi dell'accaduto un agricoltore vicino, che dall'allarme, ma i sanitari del 118 arrivati sull'impervio campo, non possono far altro che constatarne il decesso. Arrivano anche i carabinieri del comando di Pesaro, che ora, coordinati dal capitano De Gori, dovranno ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Da tutti ricordato come un gran lavoratore, disponibile e generoso, amante dei mezzi agricoli, che smontava e rimontava ad occhi chiusi. Impegnato anche, al di fuori del lavoro, sempre con il suo spirito volontaristico in ogni manifestazione pubblica che avveniva nei suoi luoghi. La disponibilità e l'entusiasmo che Stefano metteva in queste attività sono state ricordate molto bene da Damiano Bartocetti, presidente della Proloco di Monbaroccio, come il suo spirito di gruppo e il senso della compagnia. Per rispetto della tragedia e dei suoi cari, sono state interrotte fino a data da definire i festeggiamenti per i 500 anni del Beato Sante. Evangelisti lasciano il dolore la sua compagna e due figli piccoli.